amici di milan punto soccer eccoci con un nuovo appuntamento con l'informazione rosso nera un appuntamento importante perché è un appuntamento che guarda al futuro quindi ascoltate le cose che ho trovato e poi le commentiamo sotto se volete allora prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui è gratuito fatelo numerosi entrate nel gruppo che diciamo così i primi 10.000 ci sarà una sorpresa per voi e poi se volete in basso un po più in basso c'è il libro romanzo milan ormai lo conoscete tutti per cui inutile che ve lo mostri ma la cosa più importante è invece mostrarlo va bene questa piccola gag quindi mi raccomando se siete dei veri milanisti qui sotto lo potete acquistare allora di che cosa vogliamo parlare beh diciamo che c'è fermento all'interno del dell'amministrazione milan il management milan si sta interrogando perché comunque diciamo le premesse erano altre le premesse e la possibilità di arrivare un po in maniera meno meno ansiolitica usiamo questo termine rispetto all'anno scorso c'era da parte del management noi non ne siamo mai stati convinti però una grande campagna acquisti addetta di furlani moncade gerry cardinale una campagna acquisti importante addetta anche di molti degli addetti ai lavori ma la cosa evidente lo sappiamo qual era quella dell'assenza di alcuni ricambi su ruoli fondamentali e soprattutto per quanto riguarda l'attacco dunque gli ultimi risultati negativi del milan hanno evidenziato alcune carenze troppe carenze una rosa che sicuramente non può dirsi all'altezza della coppa dei campioni per chi vive di nostalgia della champions league né tanto meno del campionato di serie a diciamo sul campionato di serie a se la si può giocare perché il livello è di un'altra categoria moncada e dottavio insieme chiaramente al management quindi parliamo di furlani hanno sicuramente stanno continuando a lavorare in modo meticoloso per arrivare a creare un squadra che possa rispondere alle esigenze di bilancio hanno già lavorato in estate lo sappiamo ma adesso bisogna guardare al futuro di chi parliamo allora innanzitutto per loro una delle esigenze è trovare un degno sostituto di teo hernandez sostituto l'ho usata io come termine perché loro parlano di far rifiatare teo hernandez io parlo di sostituto ma questo lo discuteremo perché per meteo hernandez è già in odore di uscita florenzi può essere sicuramente un'alternativa bartesaghi lo sappiamo come agisce pioli con i giovani a qualità poi sicuramente sarà il suo momento però nonostante queste due opzioni sulla fascia sinistra per il mondo milan per il management manca qualcosa la possibile mossa per il completamento ha un nome e un cognome juan miranda obiettivo prioritario il milan vuole assolutamente il giocatore su di lui ci sono altre squadre in primis il barcellona il milan però vuole chiudere l'operazione a gennaio gli uomini di mercato rosso nero stanno intensificando i contatti valutando un'offerta tra i 3 e i 4 milioni per il betis siviglia ora voi direte caspite che giocatore può essere a 3 4 milioni no perché è un terzino sinistro con contratto in scadenza con il betis siviglia a luglio che non vuole perderlo a zero poi un altro grande obiettivo quindi è rappresentato dal dall'attacco per fortuna si girano tanti nomi ma il milan è sempre più concentrato sul nome di jonathan david che sarà per una buona percentuale il futuro attaccante del milan guardiamo un po di video che girano su youtube per valutarne la consistenza le novità quali sono che si parla di lui per il mercato estivo 2024 ma in realtà ecco che cosa ha dato come ok jerry cardinale cioè che sarà un mercato più scoppiettante quindi potrebbero già a gennaio arrivare sia juan miranda battendo appunto la concorrenza del barcellona sia jonathan david attaccante canadese considerato un profilo molto importante e soprattutto un profilo di che ha una certa futuribilità il lil non è ancora al momento così convinto di lasciarlo partire un gioiellino del lil noi abbiamo sempre questa porta o il lil può essere considerato non so che tipo di bacino oppure forse noi siamo limitati nel guardare sempre solo a certe squadre ma c'è una novità in tutto questo perché se il lil non volesse cedere subito il suo gioiellino jonathan david ecco che il milan proveremo proverebbe proveremo non sono nel mila il milan proverebbe una nuova offensiva per taremi quindi queste sono le tre notizie di mercato va trovata sicuramente una soluzione rapida va trovata una soluzione che possa sperando ecco questo è importante sperando che non sia troppo tardi perché jerry cardinale dice va bene andate al mercato di riparazione come si diceva una volta va bene acquistiamo il terzino del lil 3 4 milioni va bene andiamo a vedere scusatemi il terzino del betis iviglia 3 4 milioni va bene andiamo a vedere se ci danno subito jonathan david tanto è una somma che avremmo dovuto spendere al luglio maggio giugno luglio 2024 nel caso in cui non ci fosse questa possibilità guardiamo a taremi ma il milan perché non accelera il milan non accelera perché vuole capire nelle prossime partite soprattutto le due in casa contro il paris saint germain è il borussia dortmund che cosa che cosa sarà a gennaio sarà un milan che punta solo la seconda stella oppure sarà un milan che potrà andare avanti anche in champions league e allora bisogna temporeggiare ma se temporeggi ti portano via le opzioni non è una cosa semplice forse e forse tolgo anche il forse queste cose andavano pensate prima e andavano viste proprio quest'estate quando una punta bisognava andarla a prendere anche lukaku fischietti o non fischietti bye bye